Non ci sono stati i presupposti per affrontare questo 69esimo trofeo Matteotti perché non potevo io garantire al 100% la spesa e quindi non ho avuto nessun colloquio positivo da parte delle istituzioni. Punto. Io non ho forzato nessuno perché il trofeo Matteotti non deve forzare. A me mi è costato. Non mi è costato a livello economico ma mi è costato a livello di persona, di sentimento. Noi anche siamo rimasti dispiaciuti di questo annuncio del patron Ricci anche perché gli ultimi incontri che abbiamo fatto lui non aveva fatto assolutamente trasferire un'intenzione del genere. Noi purtroppo non per la situazione di predissesto del comune non abbiamo la possibilità di erogare contributi. Questo ci dispiace molto. Noi da parte nostra siamo sempre stati vicini al patron Ricci. Io in ogni caso l'ho sentito fino a qualche settimana fa. Sapevamo che da parte del patron c'era la volontà di coinvolgere un po' di imprenditori per sponsorizzare l'evento. Evidentemente questo non è riuscito. Per noi è un grande dispiacere. Noi in ogni caso, nel giro di qualche giorno, mi sentirò con Ricci per cercare di capire bene quali sono i motivi dell'annullamento di questa gara. Ripeto, noi siamo assolutamente a disposizione. Se ci si chiede supporto logistico siamo pronti a supportarla in tutte le maniere possibili. contributi non siamo in grado di poterne garantire.